Due giovanissimi in carcere a Brescia, 20 e 22 anni, pakistani, uno naturalizzato italiano. La procura di Brescia e le accusa di terrorismo avrebbero diffuso in rete contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche jihad islamica palestinese, Stato islamico e Al-Qaeda. Indagini cominciate un anno fa della Dicos di Brescia e della direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Davano link a materiale propagandistico di natura jihadista. Davano molti assensi, molti cenni positivi a questi contenuti. Hanno pubblicato poi essi stessi dei fotogrammi in cui venivano visualizzati dei soggetti in armi, degli scenari di guerra, dei soggetti che venivano decapitati, quindi materiale anche molto forte. Sono operai, vivono nella realtà bresciana, evidentemente si sono radicalizzati sul web e hanno dato materiali di approvazione a questa propaganda jihadista. Gli arresti nel quartiere multietnico di Via Milano a Brescia. Le indagini sono partite dal monitoraggio della rete nell'ottobre del 2022. Grazie. 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 Grazie.